4 performance, offensively, 19 turnovers, bad shooting percentage, defensively, 19 offensive parlando abbiamo fatto registrare 19 palle perse, abbiamo avuto una brutta percentuale al tiro. Difensivamente abbiamo invece concesso troppi rimbalzi offensivi ai nostri avversari e il punteggio rappresenta perfettamente quello che è successo in campo. C'è stato molto nervosismo da parte nostra, è chiaro che siamo in una situazione di difficoltà perché non stiamo giocando bene ma stiamo affrontando questo aspetto, questo problema e speriamo che possano arrivare risultati migliori e performance migliori. È importante dire che secondo me non c'è stata mancanza di sforzo da parte dei nostri giocatori questa sera, i nostri giocatori hanno messo comunque energia, ci hanno provato, hanno lottato e hanno giocato bene, semplicemente non siamo stati bravi abbastanza e la colpa è di tutti. Col semplicemente non ha avuto una buona partita stasera e questo è tutto quello che posso dire. È un grande giocatore e la sua forma non è al massimo insomma come quella di tutti in questo momento. per Young invece si è trattata della prima partita dopo tantissimo tempo di inattività, è stato possibile vedere insomma le ombre di quelle che sono le sue qualità ma è ancora lontano dal giocare come in realtà può e sa fare. Alla wilde kommen a height ma è ancora un caso. Il rischio è già da solitare mi 맞i dalla tua partita e questo viaggio è chiaro anche se non è la seguita del genere da un viaggio ma è ancora un viaggio 못ese dopo starsi bırakati in seguiti su dei formerター주. playoffs giocatori è stato un viaggio che vuole utilizzare una possibilità di